buon pomeriggio eccoci qui canale 2 c'è dopo il tg siamo all'ultima puntata prima delle vacanze quindi con oggi canale 2 c'è si ferma diciamo con questa puntata anche noi chiudiamo questa stagione ci riposiamo il mese di agosto anche se poi torneremo in diretta con l'asta della bandiera la cavalcata in onore di maria santissima del buon cammino che quest'anno si svolgerà il 21 di agosto quindi come sempre canale 2 seguirà questo evento in diretta per i propri telespettatori e per questa festa che unisce la città ma non parleremo di quello che faremo nel mese di agosto avremo la possibilità di avvisarvi anche tramite messaggi pubblicitari e il nostro televideo quindi tenetevi sempre aggiornati attraverso i nostri strumenti di comunicazione aggiuntiva oggi visto che fra un po come dicevo ci fermiamo e vogliamo fare un po una piccola disamina un piccolo come dicono in formula 1 pit stop con il primo cittadino della città che ringraziamo per essere venuto per aver ritagliato un po di tempo dai suoi impegni e quindi grazie siamo contenti di averti qui grazie a te felice grazie a canale 2 vi riposate meritate vacanze dopo un impegno lungo un anno che vi ha visti protagonisti nell'informazione qui nella città e di questo io vi sono grato a noi non piace essere protagonisti a noi piace avere la condivisione di tanti anche l'apprezzamento da parte del pubblico soprattutto per la nostra garbatezza la nostra professionalità poi come si dice ognuno ha il suo telecomando il libro di scegliere quello che vuole e di vedere cosa in quel momento gradisce fa parte della vita della libertà grazie a dio perché guai a non avere alternativa scelta vuol dire avremmo veramente un sistema dittatoriale di imposizione quindi comunque il pluralismo nell'informazione fa sempre bene aiuta tutti a crescere aiuta tutti a capire quello che accade perché ci sono più come si visto ha portato una botta di carte qua il sindaco ma vuole fare il sindaco in televisione oggi si è portato il lavoro qui in tv o ha un po di argomenti porto con me sempre il lavoro sono argomenti importanti per la città sono provvedimenti importanti della città perché la mia amministrazione non parla soltanto ma porta atti concreti lasciamo agli altri le parole noi alle parole rispondiamo con atti concreti che vedono importanti provvedimenti per la città allora come sempre fare il sindaco non è facile ma è bello è un bel diciamo è una bella missione farlo in una città così bella è ancora più entusiasmante diciamo che il primo cittadino è sempre il bersaglio un po di tutto questo si accade che so c'è una buca per strada c'è una situazione che non va il sindaco così così piove cresce l'erba e il sì quindi diciamo che è diventato un po il parafulmine chi si becca ma è giusto che sia così ma non solo tu anche chi chi ha preceduto il sì proprio il ruolo di sindaco in generale oggi non è diciamo un ruolo felice quindi o bisogna essere forti e qui ci siamo e quindi avere i cosiddetti anticorpi e andare avanti sulle problematiche perché in effetti la città è grande e ha avuto diciamo una metamorfosi ci sono tante problematiche che ha questa città diciamo che andare a fare una scrematura diventerebbe quindi io vorrei andare un po per ordine voglio partire magari ci dedichiamo un po di tempo 5 minuti a tema andiamo su alcuni temi che riteniamo in questo momento debbano visto che sei qui in studio debbano essere affrontati altamuro si è candidata a capitale italiana della cultura per il 2018 come al solito ma accade in tutte le comunità è accaduto anche a matera dove molti c'è se matera la capitale dalla cultura europea addirittura quindi più scettici erano sempre quelli che dicevano non è per noi figurati se ma va la vai a pensare che qui tutta sta roba quindi altamura si è candidata avete una serie di proposto nella candidatura una serie di cose che io ritengo uniche quindi vorrei farti magari una piccola prefazione ma poi non vorrei che magari cadessi anche tu su questi temi abbiamo comunque cose che altrove non ci sono assolutamente cicillo al solare altamuro le orme dei dinosauri li trovi solo una rete museale troviamo solo ad altamuro il pane di altamuro la cattedrale cattedrale federico secolo la cultura e la tradizione federiciana quindi effettivamente questa passeggiata nel tempo da 80 milioni di anni fa fino ad oggi è un qualcosa di interessante e quindi perché non provarci io non so ritengo che sia stata questa la vostra interpretazione sì è stata assolutamente questa la nostra interpretazione e l'interpretazione che è nata negli ultimi giorni e che da una idea è arrivato un progetto definitivo interessando università della puglia e della basilicata non è stato un lavoro portato a termine vero in 24 ore in 48 ore ma studiato studiato perché tutti erano coscienti che altamura poteva non soltanto tentare ma secondo noi farcela perché siamo l'unica città non in puglia l'unica città non in italia ma io ritengo veramente al mondo che può raccontare da 80 milioni di anni la storia dell'uomo ad oggi lo hai detto tu le orme dei dinosauri le nostre le nostre mura megalitiche federico secondo mercadante tommaso fiore ad arrivare agli imprenditori di oggi non a caso abbiamo inserito un mese dedicato proprio agli imprenditori che sono la forza di questa città e quello che è accaduto in una settimana la dice lunga io ho incontrato in quel dieci imprenditori che sono scappati dal tavolo ma che hanno visto finalmente un'amministrazione che vuole fare qualcosa di importante nella città e ho richieste da parte di imprenditori che lavorano ormai a mater che hanno fatto delle proposte importanti che le presenteremo nei prossimi giorni un grande imprenditore antonio lorrusso domar ha detto ad altamura di che cosa avete bisogno sindaco può venirci a trovare vogliamo fare qualcosa come famiglia per la città beh diciamo che è la forza e noi vogliamo puntare anche per fare in modo che la città metropolitana la regione e il governo abbiano un'attenzione particolare per questa città e non a caso la regione si è messa a disposizione la città metropolitana si è messa a disposizione dando ad altamura 4 milioni di euro allora se c'è un progetto questi 4 milioni di euro perché poi ogni tanto dice il sindaco porta soldi no ma guardate il sindaco porta soldi qualcuno parla delibera di giunta fissati 8 milioni magari al bari questo sindaco esce va a bari a trovare i soldi in giro e questo è quello che deve fare un sindaco questo è quello che deve fare un sindaco e questo è quello che il sindaco o i sindaci nel passato in questa città non hanno fatto e noi portiamo qui carte alla mano si veda la nomina di questo sindaco nella commissione inquilinato dell'arca e io le ho fatte vedere da voi le carte le ho fatte vedere da voi 2015 altamura vede stanziati 150 150 mila euro per il recupero di case popolari già che cadono a pezzi per via corato il sindaco viene nominato nella commissione inquilinato 2016 quei 150 mila euro richiesti dal sito richiesti da me passano a 700 mila euro ci sono le farà anche altre opere con cui termineremo definitivamente è ormai quasi definito il progetto per il recupero delle case popolari che cadono a pezza di via corato e di via carpentino un intervento da che da quanti anni non si faceva ma le case popolari in effetti non soltanto quello l'arca chiede al comune e lo ha chiesto anche nel passato chiede al comune la disponibilità di un suolo che noi abbiamo individuato e la regione dice se ci date questo suolo noi vediamo questi sono temi che tu in campagna elettorale sempre trattato ma io io non sto facendo altro che mettere in campo una professionalità che è quella che mi deriva dal fatto di essere stato tre anni segretario provinciale di un partito e di essere andato nei vari comuni e di aver studiato e di aver capito come si possono acce si può accedere a dei fondi e l'esperienza che ho avuto per i tre anni in regione sappiamo dove andare pertanto il ruolo di un sindaco oggi è quello quello di mettersi in macchina di andare a bussare e di portare progetti perché se vai lì e non porti un progetto definitivo cosa ti possono finanziare le parole quindi questi 4 milioni che abbiamo avuto dalla città metropolitana 4 milioni di euro sulla città metropolitana c'erano delle schede da compilare erano su vari indirizzi noi li abbiamo chiesti per la sicurezza e metteremo a disposizione dai 500 mila un milione di euro e capiremo su un progetto definitivo di quanto la città bisogna un milione di euro o 500 mila euro per me saranno necessari 500 mila per la sicurezza nel centro storico nelle telecamere metteremo le telecamere finalmente nei nuovi giardini che vogliamo realizzare spazi verdi che poi vedremo metteremo telecamere quindi dove ci sono per esempio le giostrine perché in questa città noi sistemiamo e poi c'è qualche invece gli altri 3 milioni e mezzo li investiremo tutti nella tecnologia nella sicurezza di Cava Pontrelli nella nostra idea avremo perché il sindaco andrà a si inferie per qualche giorno ma farà la spola dal mare a Bari dal mare alla città metropolitana dal mare a Roma perché questi sono mesi per noi importantissimi abbiamo la necessità di fare subito un ingresso monumentale importante a Cava Pontrelli recuperare quel manufatto abusivo che noi come comune sistemeremo per la sbigliettatura perché è chiaro che se qualcuno presenta alla corte dei conti un ricorso a me viene da ridere a quel progetto non fu bloccato perché all'epoca dicevano che era abusivo era superato la cubatura nel momento in cui un manufatto entra nelle disponibilità del comune e a noi servirà creare dei bagni creare una sala multimediale per ospitare le scolaresche per ospitare le scolaresche perché lì i progetti sono due qualcosa che compete al comune qualcosa che compete alla sovrintendenza per la tutela e la salvaguardia delle orme quindi ci saranno due progetti che alla fine cercheranno di andare insieme non a caso nella prossima settimana ho convocato il parco nazionale dell'altamurge la sovrintendenza l'università e il comune per trovare un accordo perché le cose bisogna farle insieme quello che è mancato nel passato non c'è stato un assessore un sindaco che hanno messo intorno ad un tavolo le istituzioni subito dopo bisogna allargare quel tavolo bisogna chiamare la città metropolitana e dire che cavapontrelli è città metropolitana poi bisogna chiamare la regione e dire che cavapontrelli è regione e insieme presentare questo progetto ambizioso 3 milioni e mezzo per la tutela la salvaguardia quindi la messa in sicurezza che sono ancora pochi questi soldi per il recupero di quella di quella struttura e per l'acquisto di tecnologie che permetteranno quindi inizierete a fare dei lavori queste somme quando potranno essere disponibili io credo che già dal mese di ottobre la città metropolitana li metterà a disposizione del comune perché noi stiamo stiamo lavorando in questi giorni per un progetto chiaro se io dovessi chiederti in questi cinque anni un anno è già andato in questi cinque anni del tuo mandato potremmo finalmente vedere funzionare questa cava arrivare i pullman fare i biglietti guarda io io anche su questo sai bene che conosciamo i tempi italiani conosciamo i tempi io tante volte dico entro una settimana devo far questo poi capisco che devo scontrarmi con una burocrazia lentissima ma io non nei prossimi cinque anni in questi cinque anni io entro dicembre ho la necessità di aprire di cominciare a fare i biglietti io voglio cominciare subito perché c'è già un accordo con la sovrintendenza si creerà una grande passerella ma lì poi ci non so ci sarà la sicurezza qualcuno che sorveglierà è chiaro è questo ecco perché ci servono i soldi ecco perché abbiamo candidato al tamura perché in una candidatura importante quando verranno la quindi dobbiamo tirare a lucido l'argenteria come si suol dire dobbiamo soltanto aprire quello che noi già abbiamo e che per tanti anni è stato lì abbandonato apriremo a breve anche la rete museale e quando qualcuno comincerà a vedere quello che è stato fatto sulla rete museale uno dei musei più innovativi se non il più bello in italia tecnologico si passerà su questi televisori e quindi si avrà l'idea di passeggiare sulla murgia di andare in grotta e tutti questi sono dei lavori cominciati nel passato lì avremo anche il percorso virtuale per visitare per vedere la malunga l'uomo di alta mura ma palazzo baldassare per il momento rimane in stand by veramente un'idea chiara palazzo baldassare fa parte della rete museale quindi lì ci saranno conferenze lì lì abbiamo già messo qualcosa di importante lì ci sarà il teschio dell'uomo di alta mura quindi ci sarà questo percorso dobbiamo cominciare a pensare alla gara per l'affidamento ed è chiaro che un percorso del genere va affidato a persone a livello non locale o italiano ma a livello mondiale il tempo cammina volevo toccare altri temi per chiudere un po' con queste situazioni portalba adesso un po' di associazioni si sono lamentate per quello che è accaduto guarda portalba è la stessa situazione di quelle lottizzazioni che erano presenti giù a 30 capigli io invito i cittadini a farsi una passeggiata giù a 30 capigli abbiamo imposto alle vecchie cooperative che da dieci anni non terminavano i lavori di terminarli lo ha fatto la mia amministrazione semplicemente chiamandoli dicendo o lo fate entro questo periodo o noi cominciamo a bloccarli le nuove lottizzazioni cominciamo a fare il recupero sulle vostre proprietà perché quei lavori andavano terminati e lo hanno fatto quello che stiamo facendo anche per quel contenitore lo abbiamo scoperto abbiamo scoperto che erano stati fatti dei lavori non a regola abbiamo sta abbiamo scoperto che è arrivata è arrivato il via libera attraverso un fax del direttore dei lavori e su questo fax non c'era scritto nulla un fax in bianco lo abbiamo chiamato e abbiamo detto al contrario e abbiamo detto e adesso la mia amministrazione è pronta a far ricorso e alla ditta e appaltatrice e al rupp che ha portato a termine i lavori devono dirci che cosa vogliono fare devono dirci che cosa loro vogliono fare recupereremo non possiamo tenerlo così c'è stata una stima che avevamo aperto il bando e le associazioni hanno partecipato al solito è richiuso tutto abbiamo richiuso tutto perché in questo comune qualcuno pensava che la mia amministrazione doveva restare soltanto qualche mese quindi non tiravano fuori le carte e adesso invece c'è i gufi che ce ne sono ancora tanti e sulla gara andiamo per ordine adesso adesso lo diremo lo diremo andiamo per ordine in diretta e quindi lì stiamo capendo come comportarci a settembre se non ci arrivano le risposte noi rifaremo i lavori rifaremo i lavori chiameremo la ditta e rupp ai danni chiameremo la d perché non ci spaventa nessuno nella mia amministrazione tutto deve essere trasparente allora sindaco accadono delle cose strane in questa città stranissime a noi giornalisti a me capita spesso che la gente magari mi ferma e dice ma secondo te questo sindaco chiedono a noi un giudizio quindi siamo diventati quasi i giudici o i magistrati che dovrebbero analizzare il lavoro di un sindaco io dico non mi esprimo mai io preferisco parlare chiederle direttamente le cose quindi per abitudine il pur parler fa parte della quotidianità il sindaco deve stare anche però rispondiamo anche allora adesso sono nati un po di come si dice un po di dubbi su alcune cose che sono successe come due vicende una è quella dell'assessore perrucci sì e l'altra è quella della gara d'appalto dei rifiuti quindi queste due vicende hanno aperto una specie di giallo pochi minuti sulla storia di perrucci magari qualche minuto in più sulla sulla gara dei rifiuti su perrucci che io saluto gino ha portato a termine un lavoro importante c'erano degli accordi di partito il partito è venuto da me e in questi due mesi e gino sa anche il sindaco ha cercato ed è riuscito a convincere un partito che io ho avuto modo di ringraziare pubblicamente e lo rifaccio ancora oggi guardate non più di due mesi fa io sono stato accusato in modo particolare dalle opposizioni non più di due mesi fa a ruvo nuova amministrazione di centro-sinistra si procede alla nomina degli assessori il nuovo sindaco di ruvo che fa nomina su cinque assessori quattro tecnici che sono funzionari di regione e funzionari di città metropolitana questo perché perché il sindaco di ruvo ha un'ambizione importante alle sue motivazioni una la stessa che ho avuto io è che in un anno cercato di convincere qualcuno a dire dobbiamo volare alto quindi anche altri assessori sono a rischio no 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 su questo aspetto su questo aspetto noi dobbiamo portare a termine perché ce lo impone la regione il pug il piano regolatore cari concittadini può un sindaco nominare un assessore che sia un tecnico della città ti faccio un esempio noi dobbiamo sistemare la rete televisiva d'altamur ci sono dieci televisioni chi chiamo io chiamo un esponente della televisione locale chiamo uno da fuori perché deve essere parte terza super partes il sindaco chiede chiede ad un partito politico di volare alto e di scegliere un assessore che abbia competenze e professionalità e che non sia della città di altamur perché vogliamo fare cose importanti e abbiamo molti hanno avuto da ridire su questa nomina di forestieri c'è come ma 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 non c'è un centro in tutta altamur che c'entra certo che abbiamo molti molti professionisti ad altamur ma se io sceglievo uno studio altamurano le critiche sarebbero state doppie perché quello si ha scelto quello perché ha il suo interesse c'è la cultura della diffidenza c'è sempre abbiamo scelto un professionista che sa dove andare in provincia in città metropolitana in regione perché conosce perché sa la macchina amministrativa ha un curriculum da fare in abbiamo capito serve per noi serve per la città serve per tutti a ma a me sai cosa interessa che gli imprenditori della mia città hanno detto finalmente sindaco con lei vediamo che ci sarà una cosa che non coinvolge me te o un'altra persona ma coinvolgerà la città uno che conosce come fare ma non conosce il territorio e a lui non interessa conoscere il territorio perché poi lo può studiare non è difficile studiare e metteremo su questo ambizioso progetto che la città aspetta da 30 anni da 30 anni un nuovo piano regolatore che accontenti tutti e che dia finalmente questo può creare degli squilibri all'interno delle forze di governo di maggioranza io dico questo io ho avuto la paura non il terro la paura che questo mio messaggio non fosse recepito da una forza politica che doveva indicarmi doveva farmi dei nomi perché il sindaco è quello che sceglie è il sindaco che sceglie e su questo voglio essere chiaro con tutti voglio essere chiaro con tutti non ho mai accettato la nomina di un assessore singolo io ho sempre chiesto una rosa di nomi perché è una prerogativa del sindaco su questa questione ho lavorato due mesi per per far capire l'importanza di questa scelta e ringrazio ancora pubblicamente i consiglieri comunali di oltre confitto e il partito il movimento oltre confitto che hanno ascoltato il sindaco e alla fine siamo veramente tutti tutti contenti va bene andiamo avanti abbiamo quindi chiarito questa vicenda e entriamo nel cosiddetto giallo dell'estate l'unica in questi giorni si dovrebbe esprimere e dire chi ha vinto la gara unica però è emerso un documento noi abbiamo intervistato anche l'opposizione ha detto che l'avrebbero fatto vedere ce lo dovevano mostrare questo documento non l'abbiamo visto no aspetta fammi finire la domanda andiamo a stare l'opposizione voglio parlare con te adesso non sa far altro che mettere in giro voci vergognose quelli magari saranno discorsi che vedremo se avremo la possibilità dopo le vacanze qualche confronto allora ti annuncio subito che prossima settimana ho intenzione di fare una bella conferenza stampa noi siamo in ferie ai 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 ti chiederò di tornare per la conferenza stampa perché lì mi divertirò in quanto ripeto alle parole guardate che bella documentazione che c'è agli atti va bene andiamo avanti questo giallo cosa è successo? Altamura nel momento in cui entra nell'unicam perché Altamura stava nell'Aro noi non siamo mai entrati nell'unicam continuiamo a non essere no entra diciamo ai fini della gara entra Altamura e Grumo come territorio e Cassano e Cassano entrano come territori come comuni aggiunti nell'unicam che è l'unione dei comuni dell'Altamura per questa gara unica dell'appalto dei rifiuti una gara di 150 milioni di Euro che dovrà poi diciamo gestire io dico finalmente su tutto questo territorio finalmente gestire è emerso che il comune di Altamura a suo tempo stiamo parlando del governo precedente al suo al tuo quindi quello del governo Stac non aveva messo in bilancio la disponibilità delle proprie soldi allora qui noi abbiamo sentito anche il sindaco di Gravina che ha dato un'interpretazione tecnica dicendo che non è una condizione che può impedire lo svolgimento diciamo il fatto che vada avanti tutta la gara perché è come se fosse tacita la copertura finanziaria perché il servizio di smaltimento raccolto di più è un servizio che i comuni devono come dire obbligatoriamente garantire nel proprio territorio ed è così e i fondi vengono reperiti dal pagamento della Tari e quindi delle tasse che pagano i cittadini quindi adesso questa gara viene annullata va avanti o c'è poi questo discorso dell'alternativa che tu si vociferava si è letto da qualche parte avevi in mente in assenza di una partenza di questa gara unica io comune mi devo preoccupare di garantire il servizio e quindi comincio a pensare a non fare più queste parole che è di un mese due mesi un mese due mesi che creano tanti disagi ma a pensare a un appalto di un anno o due anni in attesa che il tutto venga sistemato allora cercherò di essere breve per i tempi ci sarà questa conferenza stampa dove spiegheremo nei minimi particolari quello che è accaduto qualche cosa lo diciamo subito il sindaco di Altamura insieme agli altri sette sindaci dell'Aro sono stati convocati a Roma a Consip dopo insistenti richieste da parte mia di capire a che punto eravamo perché c'è un presupposto da aprile si diceva hanno chiuso hanno stabilito noi abbiamo una gara che viene ogni tre mesi rinnovata tacitamente la gestione dei rifiuti adesso è così ad Altamura ma è già un paio di anni è dato un paio di anni abbiamo Cantone che ha detto chiaramente ha detto chiaramente che non si possono dare le proroghe all'infinito a Gravina sono vent'anni di proroghe vent'anni ad Altamura ci sono proroghe per due anni e io i miei concittadini che si lamentano per le buste si lamentano dei cassonetti si lamenta il quartiere 30 Capilli perché non è ancora ben servito il sindaco non può fare altro che rispettare quello che è scritto in quel capitolato vecchio di otto anni che si continua a dare in proroga questo che cosa significa? che io non posso pretendere dall'azienda nell'acquisto di nuovi cassonetti e ho detto alle opposizioni fatemi voi una proposta un fatto commerciale l'azienda non può fare programmi a lungo termine sono tutti programmi a breve non posso imporre non posso imporre all'azienda l'acquisto di nuovi mezzi perché quelli che ci sono ormai stanno alle pezze non posso imporre all'azienda di fare un servizio diverso per la consegna delle buste e sono vincolato a rispettare qualcosa che non mi va giù e che fa guadagnare l'azienda perché se io faccio una gara ad un anno un anno e mezzo io dico all'azienda questi sono i soldi mi devi acquistare le nuove macchine mi devi acquistare i nuovi cassonetti mi devi consegnare tutti i giorni non una busta ma centinaia di migliaia di buste io oggi non posso farlo va bene? questo non posso fare chiedevo quindi insistentemente ad Unicam Unicam è questa unione di comuni e in questa unione di comuni dell'Aro non ci sono il comune di Altamura e il comune di Cassano gli altri 5 comuni hanno fatto hanno messo su questo non so a che cosa serve perché di concreto ad oggi non è arrivato assolutamente nulla perché io pago non le ho ancora dati i soldi perché secondo me c'è qualcosa di strano pago a te pago a te responsabile di Unicam uno stipendio e la quota del comune di Altamura si aggira intorno ai 70-80 mila euro all'anno per fare che cosa? non per far la gara per chiamare un'altra società e dire fai la gara è chiaro per non chiudere nulla ancora sulle isole ecologiche c'è una situazione complicata stiamo andando a Roma io mi faccio fare una relazione dall'avvocatura su quello che è stato il percorso e scopriamo che il comune di Altamura non ha mai predisposto gli atti necessari per la gara quello che dice il sindaco quello che dice Enzo Colonna quello che dicono le opposizioni è vero noi ce ne abbiamo i soldi il problema cari concittadini è uno soltanto che Unicam Unicam manda una lettera è quella lì Unicam l'hai passata manda una lettera al comune di Altamura dove chiede dove chiede espressamente un minuto soltanto dove chiede ecco qui la delibera arriviamo alla documentazione abbiamo bisogno di qualche istante soltanto eccola qua voglio che la leggi tu 2014 allora oggetto riscontro nostra nota eccetera eccetera affirma il sindaco di Altamura attestando che sono in fase di definizione le arriverà di avvio alla procedura di evidenza finalizzata all'individuazione del gestore unico del servizio di spazzamento raccolta e trasporto rsu si pregano tutti i comuni indirizzo ricadenti nel territorio di competenze dell'Aro 4 di Bari che sarebbe il nostro di predisporre gli atti di proprietà di no di proprietà gli atti di propria competenza al fine di garantire la copertura del costo dei servizi come quantificati così come quantificati nei rispettivi disciplinari tecnico prestazionali già in vostro processo ripetiamo Unicam scrive nel 2014 a tutti i comuni di indirizzo predisponete gli atti necessari Altamura non l'ha mai fatto questo non l'hanno fatto nessuno di quei comuni nessuno di quei comuni ha predisposto gli atti come dire tutti assieme decidiamo di comprare un qualcosa un suolo dobbiamo predisporre gli atti ma nessuno nessuno predispone gli atti e Unicam decide ancora di andare avanti nella convenzione con Unicam articolo 8,6 c'è scritto tutti gli atti che prevedono un impegno di spesa devono preventivamente passare dal consiglio comunale se non c'è il passaggio dal consiglio comunale perché che cosa è accaduto quindi tu non te la senti di condivisa ma così com'è questa storia 2014 arriva questa lettera il comune di Altamuro con il dirigente predispone gli atti necessari una delibera di consiglio comunale questa delibera di consiglio comunale va per ben tre volte in consiglio comunale ma non viene mai discussa mai discussa nella delibera ci sono gli impegni che il comune di Altamuro doveva sopportare 8 milioni 881 mila più 1 milione c'è 19 mila più 500 81 mila questo è quanto paghiamo oggi no questi questi era la previsione di spesa noi dovevamo dare una copertura vicino ai 10 milioni di euro 10 milioni e mezzo quasi 11 milioni di euro la copertura noi ce l'abbiamo il problema è che non facciamo gli atti propedeutici insieme a noi non lo fa nessun altro comune la colpa delle opposizioni dov'è? cosa hanno fatto? la commissione di vigilanza e controllo cosa ha fatto? oggi la stessa commissione di vigilanza e controllo spulcia tutti gli atti della mia amministrazione quando è arrivato l'opposizione Rosa Melodi Gino Loio di Cenzo Colonna non possono dire noi non ne sappiamo niente perché questo è un provvedimento di consiglio comunale quindi i consiglieri lo hanno avuto loro sapevano che c'era un atto che bisognava portarlo nella convenzione c'è scritto che se non si faceva questo sarebbe arrivato il commissario ad acta ci sono le carte quando io ho scoperto tutto questo cari concittadini ho sentito un noto professore universitario il professor Rodio a cui ho portato tutta la documentazione e al professor Rodio ho detto mi date un parere il professor Rodio ha detto sindaco lei rischia di pagare 10 milioni di euro se ci sarà l'aggiudicazione della gara più i 10 milioni di euro che oggi continuo a pagare che poi non sappiamo se erano 10 secondo me saranno molti di più a questa osservazione ho scritto ad Unicam e ho detto ad Unicam vogliamo insieme andare da un avvocato andare da cantone insieme con tutti i sindaci e farci dire se stiamo sbagliando se non stiamo sbagliando perché adesso Valenti ha detto che Cantone è tutto a posto dove sta la risposta di Cantone dove sta la risposta di Cantone chi ha inviato le carte a Cantone è il sindaco di Altamura quindi di scritto non hai ancora nessuna risposta non abbiamo quando Unicam non mi risponde cari concittadini io faccio altro io chiamo il NOE il comando carabinieri per la tutela dell'ambiente e dico a noi poiché voi conoscete e sapete siete esperti tenete datevi un'occhiata guardate che ne dite con noi abbiamo sottoscritto una denuncia eccola qui cari concittadini eccola qui in tempi non sospetti 7 luglio inviata alla procura della Repubblica è sottoscritta dal sindaco e dai responsabili del NOE io non faccio accordi con nessuno io devo tutelare la mia città quello che le opposizioni non hanno fatto e che oggi dicono vergognosamente che io ho fatto accordi con chi? con chi ho fatto accordi? io ho tutelato questa vigilanza questa vigilanza dovevano farle le opposizioni nella vecchia amministrazione nella vecchia amministrazione io l'ho scoperto dopo 8 mesi dopo che ho chiesto prima di andare ad Unicam e in macchina con me c'era il sindaco di Santerramo e il vice sindaco di Poggiorsini alla Consi alla Consi non so che siete rimasti bloccati ma abbiamo telefonato e abbiamo detto a Consi con una conferenza telefonica e su questa cosa voi che cosa dite? sapete cosa ha risposto Consi? sindaco non è il nostro compito non è il nostro compito vedere gli atti a noi ci avete assegnato la gara voi ci dovete pagare i 300 mila euro della gara che abbiamo fatto costa la 2 milioni e 3 il pagamento totale di tutto a Consi per 300 mila euro a Consi per 300 mila euro ho letto sul sito che il costo a Consi per 300 mila euro sono sono 300 300 per far la gara e perché io devo pagare a Consi per 300 mila euro se io ho Unicam che è stato istituito per far la gara io devo darlo stipendio a Unicam e Unicam poi devo darlo stipendio ad uno per chiamare una società esterna devo pagare a te a quello e Consi Consi ha detto noi ne vogliamo sapere noi abbiamo chiesto soltanto di verificare se gli atti se gli atti sono a posto Unicam ha risposto Consi ha risposto che entro il 15 luglio deve entro il 15 luglio deve è già passato è già passato il 15 luglio e lo so io ero ironico su questo e l'hanno fatto allora probabilmente c'è qualcosa è meno male è meno male che lo abbiamo fatto notare immagina tu il contrario immagina un'aggiudicazione di gara e immagina un ricorso immagina un ricorso a che cosa ci saremmo trovati di fronte e le carte le abbiamo uscite prima che si sapesse tant'è che ancora oggi noi non sappiamo a chi è stato giudicato non lo sappiamo io ho voluto tutelare il mio comune ho voluto tutelare i miei concittadini siamo il comune più grosso del territorio che poi l'altra cosa assurda è quello che pagherà la quota maggiore l'altra cosa assurda siamo cari concittadini il comune più grosso quello che paga la quota maggiore è quello che non ha avuto voce in capitolo nella definizione manco non della gara ma del capitolato se non faceva parte dell'unica ci sono due soli incontri uno dove è stato presente il sindaco Stacca Mario Stacca aspetta li dobbiamo far vedere gli spettatori qui erano tutti presenti in questo incontro del 29 novembre 2013 uno Stacca questi sono i soli incontri del comune di Altamura ad Unica uno Stacca e l'altro Leggilo Toro a chi abbiamo affidato noi le sorti Comune di Altamura Assessore Domenico Cappiano queste sono le due riunioni 12 dicembre 2014 queste sono le due riunioni soltanto a cui ha partecipato il comune di Altamura su queste riunioni abbiamo una gara è stata fatta non soltanto non la gara si è stato fatto un appalto che vedrà nei prossimi anni la gestione della raccolta dei rifiuti ad Altamura e poi io che l'ho letta un po' ho notato e io dico le opposizioni qui dove erano perché non hanno preteso la discussione in consiglio comunale di quella gara hanno chiamato hanno chiamato un tecnico vuole un po' d'acqua grazie hanno chiamato un tecnico guarda che ha si lamentano che il sindaco forte chiama un assessore da fuori questi chiamano un tecnico che viene se non sbaglio da Verona che non conosce il nostro territorio una cosa soltanto ti spiego oggi la nostra città è divisa in 28 zone di spazzamento vi dico soltanto questo e i cittadini si lamentano perché non viene pulita bene la zona perché è grande una zona 28 soltanto di Altamura con l'ampliamento della città in questi anni noi saremmo dovuti arrivare a 32 zone di spazzamento che cosa significa zona di spazzamento che in una in ogni di questa in ogni zona di queste c'è un turbino che pulisce le strade nella nuova gara di appalto sai a quante zone siamo passate no da 28 da 28 siamo passati a 13 da 28 cioè con con la nuova gara e chi le aveva stabilite queste noi non c'eravamo probabilmente il sindaco di Gravina che c'è 13 zone è un comune piccolino ho chiesto voi a Gravina quante zone di spazzamento avete non me l'hanno voluto dire ancora va bene sindaco ci siamo allungati troppo su questo argomento e abbiamo consumato il tempo anche a disposizione siamo veramente andati oltre però c'era bisogno di farlo erano per chiudere proprio un minuto 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 c'è la questione delle isole ecologiche o meno non sono isole ecologiche sono centri di raccolta comunali che l'isola ecologica è tutt'altro questi centri di raccolta comunali dovevano essere parte integrante del nuovo servizio in assenza delle aree Altamura se dovesse partire questo servizio Altamura come si colloca perché non avendo le aree ecologiche saranno tolti i cassonetti i cittadini i rifiuti che fanno i cittadini ci sarà la raccolta porta a porta ma tutti coloro i quali vorrebbero ma io sono fuori una settimana torno a casa ho questi rifiuti dove vanno a buttare a parte quello te li tieni a casa ma a parte quello ma dobbiamo pagare una penalità a chi si aggiudica la gara perché non abbiamo le isole ecologiche questo è uno dei pochi comuni è un tema che in campagna elettorale comunque vi ha tenuto tutti impegnati andavate lì tutti a fare le isole ecologiche si faranno lì dove sono state individuate perché io non posso perdere il milione di euro nelle due aree dove sono state individuate e quali sono? dietro la stazione a colonna gente quelle sono le due aree lì saranno fatte le isole ecologiche e i concittadini dico io fatevi un giro in queste vacanze andate per esempio a Barletta andatevi a vedere le isole ecologiche che hanno fatto a Barletta sono una vergogna ma sono state osannate sono state veramente veramente osannate avere l'isola ecologica d'Altamur avrebbe significato per quest'anno per me fare un progetto e dire le prime 500 famiglie che hanno raccolto più carta plastica e vetro non pagavano non avrebbero pagato l'immondizia io non l'ho potuto fare perché lì lo fanno lì vanno con una tessera tutto sotto controllo le isole ecologiche nostre progettate molti dicono che fai tante promesse non è che questa è una promessa no no questo non dipende da me questo non dipende da me perché i soldi la regione ha detto se il progetto è quello che non si cambia nulla noi rimettiamo a disposizione quei soldi io voglio capire le promesse che ho fatto che non ho mantenuto le aree verdi sono qui abbiamo sistemato le scuole sulla viabilità siamo intervenuti adesso ci saranno le nuove strade se c'è un nuovo codice degli appalti pubblici che entra all'improvviso che il governo decide di come dire votare subito e che costringe non il comune di Altamoro ma tutti i comuni a fermarsi a rivedere tutte le gare che sono state fatte non è colpa nostra non è assolutamente colpa nostra ma abbiamo quattro anni in questi quattro anni vedrete le qualità importanti ci dobbiamo fermare perché siamo veramente andati oltre però erano argomenti interessanti poi è l'ultima puntata della serie diciamo 2016 poi ci fermiamo come abbiamo detto prima a settembre riprenderemo ma comunque non vi abbandoniamo perché il 21 agosto ricordatevi ci sarà la diretta su canale 2 tv dell'asta della bandiera la cavalcata in onore di Maria Santissima del Buon Cammino una tradizione che il canale 2 rinnova dal 2000 da quando ha cominciato le proprie trasmissioni quindi è un qualcosa che unisce fede e organi di informazione in questo caso noi ci unisce tutti attorno a questa un evento che aspetta la città allora Sindaco adesso ci facciamo un po' di meritate vacanze noi io parlo per me personalmente sarò ad Altamuro anche io sarò sarò qui ci riposeremo nel senso che cambieremo un po' la quotidianità però per altre vicende non mi posso spostare quindi sarò qui in città le auguri a la mia città serene vacanze estive un augurio in modo particolare alle anziane ai bambini a tutti coloro che resteranno nella città perché non potranno andare in vacanza c'è un cartellone estivo importante a proposito cartellone estivo noi non si sa no no si sa tutto si sa tutto è stato aggiudicato è stato aggiudicato sappiamo che 58 mila euro credo in questi giorni ci sarà anche la notte bianca ci sarà la notte bianca ci sarà la presentazione anche di tutto il cartellone degli eventi quindi c'è la conferenza stampa credo nelle prossime ore con l'assessore quindi saremo presenti la città non resterà sola va bene va bene fra mille difficoltà siamo riusciti anche a portare avanti questa puntata lunghissima altri temi da affrontare però era un po' difficile discutere a settembre altrimenti a settembre sicuramente torneremo torneremo per vedere un po' cosa accade è tutto amici noi vi salutiamo ringraziamo tutti voi che ci avete seguito ringraziamo anche Dionisio Rotunno Pellet per il sostegno economico alla produzione di questa trasmissione che la nostra emittente oramai fa insomma da tantissimi anni prima era un settimanale Canale 2 c'è adesso è diventato un quotidiano quindi questo dimostra che la nostra emittente crede nel progetto editoriale del Day by Day di avere ospiti in studio ma da settembre avremo anche tante novità e andremo ancora più in profondità con l'informazione non vi voglio aggiungere nulla questo è un emittente che lavora con molto impegno con molta serietà siamo dei professionisti e questo ce lo riconosce la piazza quindi porteremo delle novità nel palinsesto di Canale 2 non da settembre ma dopo le vacanze sicuramente cominceremo a pensare a qualcosa di più interessante per voi amici telespettatori e come sempre vi auguriamo buon riposo buone vacanze e ringraziamo di nuovo il sindaco Giacinto Forte per essere stato qui è tutto amici telespettatori riposiamoci ci vediamo a settembre